L'auditorium dell'ex monastero dei Benedettini a Catania era gremito ieri sera in occasione dell'incontro con l'attore Luca Zingaretti, meglio conosciuto come il commissario Montalbano, ed Edoardo De Angelis, protagonista e attore del film Perez, in uscita nelle sale nel prossimo mese di ottobre. L'incontro si è svolto nell'ambito della dodicesima edizione dei Trailers Film Fest. Nel film Zingaretti interpreta il personaggio di Demetrio Perez, un avvocato d'ufficio che vive nel Grigiore, una situazione dalla quale è costretto poi ad uscire a causa degli eventi che si susseguono nella sua vita. Primo fra tutti l'innamoramento della figlia Tea per un personaggio ambiguo, tante interessanti le domande rivolte all'attore Romano. Spesso e volentieri, però ci sono delle domande che ti mettono piacevolmente in crisi, perché magari è una cosa a cui non avevi pensato e te la devi domandare. Adesso, qual è stata qui non te lo saprei dire perché non me ne ricordo. È stancante le parti. Cosa ci aspettiamo da questo film? Guarda, io mi aspetto, come dicevo prima, che tanta gente riesca a vederlo, perché siccome è un film a cui mi sento emotivamente legato, penso che sia un film importante, penso che sia un film d'autore che ha passione del pubblico e quindi è fatto proprio pensando al pubblico, mi piacerebbe che fosse visto, perché credo che sia, come dicevo prima, una storia che ti rimane dentro. Recentemente si è parlato di un possibile trasferimento della location del commissario Montalbano dalla Sicilia ad altra regione italiana, ma Zingaretti non nasconde la propria simpatia per la nostra isola. In una bellissima carriera, quanto conta la Sicilia, com'è incastonata la carriera di Luca Zingaretti nella Sicilia? Ma guarda, a me piace pensare a Sicilia come luogo per venire a trascorrere del tempo, però per me stesso, non per lavorare, anche se può sembrare strano, perché io sono legato proprio affettivamente ed emotivamente a questa terra, perché mi ha regalato dei momenti tra i più belli della mia vita. Basti dire che io con mia moglie mi sono conosciuto qua, mi sono sposato qua, quindi questa la dice lunga su tutto quanto. Grazie.